Sequestro di persone e torture i due quindicenni interrogati dal giudice per le indagini preliminari Montante slitta ancora il processo dienza rinviata al prossimo 30 gennaio intanto Marina ha dichiarato il ritiro della sua costituzione come parte civile Covid in Sicilia, contagi in aumento del 26% nell'ultima settimana tassi più elevati nelle province di Ragusa, Palermo e Messina Istituto Autonomo Case Popolari reso conto dell'attività svolta nel 2022 attenzione rivolta anche ai prossimi obiettivi Calcio, serie D ed eccellenza, domenica la prima giornata del girone di ritorno Ben trovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale apriamo parlando del sequestro di persone e torture i due quindicenni interrogati dal giudice per le indagini preliminari dettagli nel servizio Era uno dei momenti più importanti e delicati di questa prima parte del procedimento nei confronti dei due quindicenni arrestati per aver sequestrato e torturato un ragazzo di 13 anni di Caltanissetta I due quindicenni nisseni, arrestati ieri dai caribinieri del comando provinciale di Caltanissetta con l'accusa di sequestro e tortura hanno respinto tutte le accuse al loro carico Davanti al GIP del tribunale per i minorenni Bianca Maria Bonafede i due sono comparsi questa mattina assistiti dai loro avvocati Uno dei due ha riferito al giudice che poco prima si era verificato un alterco tra la presunta vittima e l'altro quindicenne e che lui sarebbe intervenuto solo per riportare la calma Inoltre ha continuato il racconto riferendo che sempre l'altro quindicenne avrebbe dovuto vendere al ragazzo di 13 anni una sigaretta elettronica e che dopo il suo intervento era stato tutto chiarito Per i due indagati le accuse pesantissime sono a vario titolo di tortura, sequestro di persona minaccia, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere Il muovente del sequestro e delle torture sarebbe da ricondurre alla volontà dei due quindicenni di vendicarsi nei confronti del ragazzo di 13 anni che si sarebbe lamentato con altri di alcune aggressioni nei confronti di alcuni suoi amici L'indagine che ha svelato una sfumatura inquietante della realtà adolescenziale nissena è stata coordinata dal procuratore della Repubblica per i minorenni di Caltanissetta Rocco Cosentino Torniamo a parlare del processo montante Slitta ancora il processo, udienza rinviata al prossimo 30 gennaio Sentiamo Continua a subire rinvii il processo nei confronti dell'ex leader di Sicindustria Montante E' stata rinviata al prossimo 30 gennaio infatti l'udienza del processo che si celebra a Caltanissetta nei confronti di 30 amputati nato dall'inchiesta sul cosiddetto sistema montante Per la vicenda che è nata da una parte dell'inchiesta sull'ex leader di Sicindustria già condannato in appello in abbreviato a 8 anni per corruzione, per rivelazione di notizie coperte dal segreto d'ufficio e favoreggiamento e in corso il dibattimento di primo grado davanti al tribunale a carico di esponenti delle forze dell'ordine imprenditori e politici Il processo si è fermato dopo che il CSM ha nominato procuratore aggiunto di Caltanissetta l'attuale GIP di Roma, Niccolò Marino, che è parte civile in uno degli episodi contestati Per legge in questi casi il procedimento deve essere trasferito e essere celebrato a Catania come richiesto da diversi avvocati della difesa il 17 febbraio del 2022 Il magistrato ha intanto dichiarato il ritiro della sua Costituzione come parte civile nel processo dove sarà presente come parte l'ESA Il Tribunale di Caltanissetta si era riservato di decidere sulla richiesta di trasferimento del processo a Catania nell'udienza dello scorso 19 dicembre ma nel frattempo è intervenuta la sospensione dell'efficacia del provvedimento di nomina del CSM di Marino da parte del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma su ricorso presentato da un altro candidato al ruolo di procuratore aggiunto a Caltanissetta il sostituto procuratore Pasquale Pacifico in servizio alla Didiani Sena Il TAR ha fissato la Camera di Consiglio per il 10 maggio 2023 data che potrebbe essere decisiva per la scelta definitiva della sede del procedimento penale Intanto il 17 gennaio prossimo si terrà il ricorso al Consiglio di Stato contro la sospensione disposta dal TAR La decisione sarà nota prima del 30 gennaio data in cui è stata fissata la nuova udienza del processo al cosiddetto sistema montante Covid in Sicilia contagi in aumento del 26% nell'ultima settimana tassi più elevati nelle province di Ragusa, Palermo e Messina Il Covid continua a tenere in allerta le istituzioni sia nazionali che regionali In Sicilia le infezioni da Covid-19 sono in crescita Nella settimana dal 26 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023 c'è stato un incremento dei nuovi casi del 26,18% in media 225 casi per 100.000 abitanti La percentuale più alta si è registrata nelle province di Ragusa, Palermo e Messina Le fasce di età maggiormente a rischio sono sempre quelle tra i 69 e gli 89 anni mentre le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento sebbene molti contagi siano stati rilevati su soggetti ricoverati per altri motivi Più di metà dei pazienti in ospedale inoltre risulta non vaccinata Il Dipartimento regionale, alla luce della elevata diffusione della variante Omicron suggerisce il rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive Inoltre esorta una più elevata copertura vaccinale in tutte le fasce di età soprattutto quelle tra 5 e 11 anni e il completamento dei cicli di vaccinazione Sul fronte dei vaccini nella fascia di età a 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose sono al 24,18% mentre il 20,80% ha completato il ciclo primario Nella popolazione over 12 invece i vaccinati con almeno una dose sono il 90,92% del target regionale mentre il 9,08% del target rimane ancora da vaccinare Sono in totale 1.057.485 invece i cittadini siciliani a cui non è stata somministrata la terza dose le quinte sono complessivamente 6.681 a riceverle sono state da settembre 2022 a oggi i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria gli over 80, gli ospiti in RSA e persone over 60 con fragilità E ancora servizio civile 38 posti per i progetti della Croce Rossa Italiana la sede di svolgimento sarà a Caltanissetta in via Xiboli Ci sono anche 4 progetti della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta o DV gestiti dall'Associazione Centro Studi per lo Sviluppo del Mediterraneo tra le opportunità di scelta per i giovani che decidono di intraprendere l'esperienza del Servizio Civile Universale anche in questo caso ciascun progetto prevede un contributo mensile a una durata di 12 mesi per 25 ore settimanali e al termine all'operatore volontario verrà rilasciato un attestato di espletamento del Servizio Civile e un attestato certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall'ente stesso I posti disponibili per i progetti Ambulife Assistiamo a tutta vita e in protezione svolti dal Comitato Nisseno in collaborazione con Svime sono 38 e la sede di svolgimento di tutti i progetti Il progetti sarà via Xiboli 345 a Caltanissetta Per l'associazione il decimo anno consecutivo fa sapere Nicolo Piave, presidente del Consiglio Direttivo della Croce Rossa di Caltanissetta a cui viene riconosciuta tale opportunità nell'ambito del Servizio Civile con lo scopo di creare un ponte tra i giovani del territorio e la loro partecipazione attiva nel campo della solidarietà I progetti saranno coordinati da Daniela Castro, Christian Fenu, Marco Lacagnina e Salvatore Buccoleri I ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni potranno partecipare a questi progetti presentando la domanda online entro le ore 14 del 10 febbraio 2023 e previo superamento di test scritti e colloqui di selezione a cui saranno presenti valutatori indicati e psicologi dello Svime così come anche precisato il presidente Piave e poi ancora si precisa nel comunicato le attività oggetto dei bandi riguardano le attività sociosanitarie, sociali e di protezione civile della Croce Rossa italiana con particolare riguardo al servizio di trasporto infermi ed emergenza urgenza con l'ausilio dell'ambulanza e guida della stessa nonché tutte le attività a supporto dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta E adesso andiamo al resoconto dell'attività svolta nel 2022 dall'Istituto Autonomo Case Popolari a riattenzione rivolta anche ai prossimi obiettivi Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanissetta hanno presentato alla stampa il resoconto dell'attività svolta nel 2022 e i prossimi obiettivi da realizzare dalla manutenzione degli immobili alla modernizzazione e digitalizzazione dell'ente già avviata pensando anche alla realizzazione di uno sportello informatizzato per agevolare i contatti con l'utenza e ancora dalla formazione per i dipendenti che proseguirà anche in futuro ai possibili nuovi bandi per il potenziamento del personale dall'efficientamento energetico alle somme destinate al verde e ai finanziamenti in arrivo Nell'anno 2022 noi come Consiglio di Amministrazione abbiamo ingentrato la nostra attenzione soprattutto per quanto riguarda l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il 2023-2025 a differenza dei due anni che ci hanno preceduto siamo riusciti ad avere il parere positivo da parte del collegio sindacale e quindi possiamo programmare delle spese con più sicurezza e più serenità rispetto agli anni passati dobbiamo dire che per quanto riguarda il PNR Sicilia sono stati stanziati dalla regione siciliana 233 milioni di euro e l'ente ha avuto la capacità di avere approvati dei progetti per un importo totale di 88 milioni di euro due di questi progetti già da subito sono stati banditi quindi ci saranno già i progetti esecutivi e le gare di appalto si tratta di due progetti uno su Gela per un ammontare di circa 4 milioni di euro e un altro su Caltanissetta per circa 5 milioni di euro i primi interventi infatti in città riguarderanno i civici 3-5 di via Puccini ma in un secondo momento i lavori interesseranno anche gli altri civici intanto in tutta la provincia sono stati recuperati 25 alloggi altri 25 sarebbero già stati assegnati ma in fase di sistemazione attenzione anche al tema delle morsità rispetto a tanti altri ACP noi abbiamo un recupero per quanto riguarda i crediti che spettano all'ente di circa il 70% abbiamo anche predisposto delle regolarizzazioni quindi per evitare che gli immobili venissero occupati dagli abusivi e quindi che causassero anche danno all'ente il quale poi per ripararli deve affrontare ingenti spese si è provveduto a circa 150 regolarizzazioni che non sono pochi con dei piani di rientro merito di questo consiglio di amministrazione anche il fatto di aver dilazionato per 120 mesi e quindi aver dato la possibilità ai nostri utenti di poter pagare rate di un importo minore e quindi di evitare che non si adempissero quindi a questi piani di rientro Per quanto riguarda il centro storico dopo gli alloggi di via Mazzini e via Blandino che nei prossimi mesi verranno completati si pensa ad una continuità del progetto di riqualificazione del quartiere Provvidenza Noi abbiamo in programma di estendere questa riqualificazione ad altri immobili lei pensi che nel quartiere Stazzone e Provvidenza abbiamo anche costruito nove nuovi immobili e quindi abbiamo che verranno ultimati spero nel mese di marzo e si costruiranno altri immobili infatti questi importi finanziati riguarderanno delle costruzioni di immobili o la manutenzione straordinaria e fondi che potranno essere sfruttati fino a tutto il 2026 Concorsi laurea del vecchio ordinamento vale più della breve i giudici del Tar si esprimono sul ricorso presentato da una nissena La laurea vecchio ordinamento nei concorsi pubblici darà due punti in più rispetto alla laurea breve La decisione per certi versi storica è stata pronunciata dai giudici del Tar Lazio che hanno accolto il ricorso di una candidata siciliana al concorso all'ufficio per il processo presso il Ministero di Giustizia La donna assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Empeduglia ha mantenuto il posto nonostante una concorrente di Caltanissetta avesse proposto un ricorso per ottenere la rettifica della gradatoria e quindi un punteggio maggiore I giudici del Tar Lazio hanno ritenuto fondata la tesi degli avvocati in quanto la laurea del vecchio ordinamento viene considerato un titolo superiore rispetto a quello richiesto per l'accesso al concorso pubblico In un avviso del Comune di Caltanissetta si legge che il 6 gennaio il cimitero sarà aperto dalle 7.30 alle 13 il consueto accesso alle macchine consentito normalmente nella giornata di venerdì per motivi di sicurezza non potrà essere concesso ad eccezione delle persone autorizzate si legge nel documento firmato dall'assessore comunale concettante a loro e adesso parliamo del primo raduno regionale in chorus a Caltanissetta dal titolo Together as One prevista la partecipazione di diverse realtà corali Caltanissetta ospiterà il primo raduno regionale in chorus 2023 l'evento dal titolo Together as One richiamerà in città sabato 7 gennaio diverse realtà corali che si esibiranno nel pomeriggio in centro storico all'interno di ben tre rassegne corali due si svolgeranno contemporaneamente una nella chiesa di Sant'Agata al collegio e l'altra in cattedrale e infine l'ultima rassegna corale al Teatro Regina Margherita dove si prevede anche la cerimonia conclusiva e tutti i cori intoneranno un canto finale in teatro nel primo pomeriggio intanto i direttori e presidenti di cori e associazioni si riuniranno per l'assemblea l'assemblea quest'anno abbiamo scelto come sede privilegiata Caltanissetta perché dal centro della Sicilia vogliamo radunare i cori siciliani e le realtà musicali siciliane che fanno parte di in chorus federation avremo un'occasione di confronto un'occasione in cui potremo dibattere su quello che è stato in questi anni le difficoltà legate all'emergenza del coronavirus ma anche le prospettive future e quello che il mondo e la cultura di domani ci prospetterà prossimamente Caltanissetta diventerà palcoscenico anche di un progetto nuovo che in corso sta intraprendendo il progetto Erasmus e che vedrà due realtà una rumena e una greca essere presenti qui nel territorio questo durante il 2023 la federazione in chorus federation nasce appunto nel 2017 con l'ambizione di rimettere al centro la Sicilia al centro del mondo culturale e del mondo corale è un'ambizione grande che negli anni però sta diventando pian piano una vera e propria realtà abbiamo pensato che l'ideale per coinvolgere tutte le reti corali era quello della rete il network la rete ci permetterà di crescere ci permetterà di fare quell'upgrading che è importante nel futuro quello che il futuro ci prospetta il programma prevede anche dei workshop gratuiti componenti dei cori e non solo durante la mattina nella casa delle culture e del volontariato Letizia Colaianni potranno partecipare ad alcuni laboratori il nostro intento è la mattina di fornire dei laboratori gratuiti riservati ai federati in chorus ma anche a chi volesse fluirne liberamente abbiamo un laboratorio di canto gregoriano due laboratori di lettura musicale cantata e parlata poi abbiamo un laboratorio di composizione corale un altro di direzione di coro un altro sulla leadership del direttore di coro e dei rapporti che si intersegano tra i coristi i presidenti e i maestri che cura questo particolare aspetto che è una novità nel mondo corale altri due laboratori importantissimi che sono i più scelti dai nostri associati sono quello di vocalità gospel e il laboratorio invece di tecnica vocale del corista quindi aumentare le loro capacità comunicative ed espressive e anche migliorare la loro voce un'altra importante novità in questi laboratori è il laboratorio di stimolazione cognitiva con la musica che consente appunto questo recupero di funzionalità del nostro cervello e legato ad argomenti musicali tutti i nostri docenti fanno parte della federazione e svolgono questo servizio gratuitamente quindi siamo davvero contenti di iniziare l'anno così e speriamo bene per il nostro futuro il maestro nissen Alfonso Torregrossa premiato al Budokan di Ota Giappone con il grado di ottavo dan in Daito Ryu Jiu Jitsu si tratta di un'antica arte marziale giapponese oggi divulgata al mondo nell'ambito di varie linee di studio sono stati giorni intensi di allenamento che hanno visto il maestro Torregrossa impegnato nella terra dei samurai si legge in una nota Torregrossa che vanta una lunga esperienza maturata dopo anni di pratica e percorsi formativi rappresenta la linea di Mutsusa Sensei andiamo al calcio Serie D domenica la San Cataldese sarà impegnata a Sant'Agata nella prima giornata del girone di ritorno con l'arrivo del 2023 ritorna il calcio giocato e per la San Cataldese è tempo di scendere in campo domenica e Verde Amaranto faranno visita a Sant'Agata per la diciottesima giornata del girone I di Serie D la squadra del tecnico infantino riprende il percorso verso la salvezza iniziando il nuovo anno contro un avversario in piena lotta playoff che milita nella parte nobile della classifica la San Cataldese in settimana ha ripreso gli allenamenti per preparare nel migliore dei modi l'appuntamento di domenica prossima alle 14.30 in terra messinese nel 2023 come ha confermato il presidente alla Cagnina nel messaggio di fine anno oltre al raggiungimento di una tranquilla salvezza si punterà a sviluppare il settore giovanile guidato dalla responsabile Francesco Rabita e a migliorare lo stadio Valentino Mazzola l'attenzione principale della tifoseria però è alla prima recita del 2023 contro il Sant'Agata per consolidare l'attuale dodicesima posizione in classifica e ottenere quanto prima una salvezza che sarebbe un grande risultato in una categoria tanto blasonata quanto difficile come la Serie D gli appuntamenti della diciottesima giornata del Girone I di Serie D in programma domenica 8 gennaio alle 14.30 Canicattila Mezzia Terme Castrovilla Rilicata Catania Ragusa Città di Sant'Agata San Cataldese Città Novesa Cireale Locri Santa Maria Cilento Paternore Alla Versa Mariglianese Trapani Vibonese San Luca E ancora calcio eccellenza Domenica la Nissa giocherà in casa al Tomaselli contro il Casteldaccia Domenica la Nissa giocherà in casa al Tomaselli contro il Casteldaccia nella prima giornata del Girone di Ritorno All'andata la squadra palermitana si imposse con un rependorio 3-0 nei confronti della squadra bianco scudata allora guidata dal tecnico Settineri Gli uomini di Alessio Sferrazza si stanno allenando al meglio per iniziare l'anno nuovo la ricerca dei tre punti per scalare la classifica e inseguire il sogno playoff unico e vero obiettivo stagionale della Nissa aspettando altri colpi di mercato che i dirigenti Emma e Cancelleri possono regalare nei prossimi giorni domenica ci saranno i debutti di Benivegna Guadagnoli e dell'ultimo arrivato Ottaviano che potrebbero debuttare con la casacca bianco scudata sugli spalti ci si aspetta un bel colpo d'occhio data la presenza Nissene che hanno stretto un patto di sinergia con la Nissa per far crescere dei campioncini per il futuro ecco la prima giornata di ritorno del campionato di eccellenza Gironea Castellammare Cus Palermo Parmonval Resuttana San Lorenzo Acragas Leonfortese Nissa Casteldaccia Sciacca Nuova Città di Gela Mazzara Oratorio San Ciro e Giorgio Don Carlo Misilmeri Profavara Enna Mazzarese Allenamento congiunto dei biancoscudati con Illicata parla nel direttore tecnico della Nissa Emma il presidente della società gialloblu Massimino Un allenamento dal sapore Amarcord quello che si è tenuto nel pomeriggio al Marco Tomaselli tra la Nissa e Illicata Allenamento congiunto tra le due società amiche e gemellate con una grande storia alle loro spalle e un futuro tutto da scrivere per i biancoscudati in eccellenza e in serie D per i Illicatesi Tra futuro e ambizioni abbiamo ascoltato il direttore tecnico biancoscudato Antonio Emma e il presidente dell'Icata Enrico Massimino Un'occasione per vedere degli amici quelli dell'Icata siamo contenti che ci vengano da trovare il presidente Massimino è un giorno di allenamento un allenamento congiunto è un modo per chiacchierare scambiare un po' di idee e soprattutto far godere del nostro stadio pregiato insomma agli amici dell'Icata stiamo lavorando per mettere quello che potrebbe mancare qualche tassello in più al mister però la squadra è già competitiva è una squadra che assume oggi un'importanza notevole in termini di oggi è un test che è importante per vedere un po' alla ripresa in che condizioni siamo e domenica invece ci attende questa trasferta a Castrovillari dove speriamo di continuare il nostro percorso che in questo momento ci vede in un trend positivo le ambizioni dell'Icata sono quelle noi siamo un gruppo giovane quindi di far crescere i nostri giovani e poterci ritrovare come è stato già l'anno scorso anche per il prossimo campionato in modo di avere sempre di più una rosa cresciuta dal nostro settore giovanile certamente i derby sono tutti importanti in particolare in istra di Gata sarebbe una cosa bellissima oltretutto in una struttura da invidia come Vallei Serie B2 femminile sabato l'Albaverde Caltanissetta affronterà il Crotone al Palacannizzaro dopo la sconfitta ad Erice contro la Procori l'Albaverde ritorna in campo nel primo match del 2023 lo fa affrontando al Palacannizzaro la capolista pallavolo Crotone nella dodicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie B2 Girona M di Volley sarà una partita fondamentale per non perdere di vista l'avversario e per far sognare una piazza come quella di Caltanissetta che gara dopo gara si sta innamorando di questa squadra che sta lottando per qualcosa di veramente grande dopo questo impegno le pallavoliste dell'Albaverde settimana prossima incontreranno l'altra capolista zafferana che insieme alla pallavolo Crotone sono prime in classifica ecco il quadro della dodicesima giornata Funivia Etna Procori Ericina Stefanese Volley Region Joyosa Planet Albaverde pallavolo Crotone Ardenz Comiso Saracena Fidelis Torretta Bricositi Cus Catania Zafferana Bene anche per oggi dunque è tutto non ci sono ulteriori aggiornamenti ci rivediamo nella prossima edizione del telegiornale intanto vi lascio al meteo e le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di venerdì giorno dell'Epifania il tempo sull'Italia continuerà a mantenersi nel complesso stabile seppur con qualche nota di instabilità tesa sulla Sardegna nell'arco del giorno ma si tratterà davvero di poca cosa più nei dettagli osserviamo quindi la mappa della nuvolosità notiamo come gran parte del nostro paese sia alle prese con nuvole basse soprattutto specie l'alto versante tirrenico e anche la Val Padana nuvole che qui non si vedono ma che appunto continueranno ad insistere per gran parte del giorno mentre dal punto di vista delle precipitazioni sarà soprattutto la Sardegna occidentale a vedere qualche goccia di pioggia nell'arco della giornata ma si tratterà davvero di fenomeni molto deboli che interesseranno appunto parte dell'isola vediamo quindi il tempo che ci aspetta durante il giorno dell'Epifania avremo una giornata nel complesso asciutta abbastanza soleggiata specie sull'arco alpino mentre in pianura al nord ma anche sui versanti tirrenici su quelli adriatici sulle zone pianeggianti insisteranno nuvole basse qualche foschia o banco di nebbia comunque in diradamento e locali piogge come dicevo prima sulla Sardegna occidentale il clima però di fatto resta sempre molto mite per questo periodo con punte massime ancora una volta prossime ai 16-17 gradi sul basso versante tirrenico tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trabi Meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno Caltanissetta servizio diurno Marrocco via Rosso di San Secondo servizio notturno Marrocco via Rosso di San Secondo marrocco servizio di fantastico per il ci salto ma per sin la